Sono stati sequestrati 33 kg di cocaina dai finanzieri del Comando Provinciale di Palermo a seguito di un controllo di un'auto guidata da un uomo di 28 anni di Siderno. La droga era nascosta nella vettura e il controllo è avvenuto nei pressi dello svincolo autostradale di Buonofornello in direzione Palermo. Grazie al fiuto di uno dei cani del gruppo pronto impiego di Palermo sono stati trovati 30 panetti nascosti nel bagagliaio contenenti complessivamente 33 kg di cocaina. Lo stupefacente avrebbe fruttato un guadagno di oltre 2.500 euro. Il Corriere Calabrese è stato arrestato e portato nel carcere Pagliarelli di Palermo a disposizione della Procura di Termini Imerese.